Ciao a tutti ragazzi, nuovo video, nuova location, siamo a Bagnetic Island, sono già stata in un posto che però vedrete più tardi nel video perché era giusto un'esplorazione per capire bene cosa fare per andarci poi di nuovo e adesso sto andando verso Picnic Bay e più precisamente al museo di Magnetic Island e poi verso un'altra lunga camminata sempre qui a Magnetic Island quindi ci vediamo più tardi Grazie a tutti Allora ragazzi appunto sono stata al museo ovviamente niente di che avete qualche pezzo di nave che si è incagliata e poco altro ero praticamente l'unica persona, c'era giusto la custode, la signora appunto che si occupa del museo, gentilissima, l'entrata è libera, potete farvi il giro, vi spiega tutto la signora c'è un piccolo negozietto di souvenir, hanno più che altro cose fatte a mano, sono aperti almeno per il momento, poi tra qualche mese non lo so, vi conviene comunque dare un'occhiata al sito al loro sito, sono aperti dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio, quindi 4 ore e tutti i giorni escluso al martedì adesso invece mi sto incamminando verso la passeggiata che mi farò, 8 km sotto il sole, peraltro tra una cosa e l'altra è anche abbastanza tardi per cominciare sotto il sole, peraltro oggi fa anche particolarmente caldo, quindi godetevi le riprese e ci vediamo più tardi finalmente sono arrivata a West Point, appunto il punto più occidentale dell'isola e appunto qua c'è la vista con il mainland, appunto c'è la spiaggetta, qui non si può fare il bagno perché ci sono le meduse e quindi non è il caso di rischiare e adesso vi faccio appunto vedere com'è questa spiaggetta allora è molto carina, molto caratteristica, tutto quello che volete, però secondo me non vale la pena di farsi 8 km a piedi come ho fatto io, se avete la possibilità fatevele in macchina, potete chiedere appunto o noleggiarvene una per conto vostro oppure chiedete se qualcuno all'ostello o alla macchina vuole accompagnarvi anche la camminata in sé per sé io pensavo fosse un pochino diversa, quindi con qualche scorcio sull'oceano quindi però non si vede niente, siete proprio in mezzo alla foresta speravo di riuscire a vedere qualche koala, visto che a quanto pare sull'isola ci sono dei koala selvatici però anche in questo caso non ho avuto fortuna, sono rimasta un po' delusa diciamo così l'unica cosa bella è che è pieno di farfalle, ho fatto qualche bella ripresa che appunto avete già visto e comunque non è una camminata che vi consiglio, gli 8 km appunto sono tanti, infatti a piedi sembrano infiniti ci ho messo un paio d'ore, adesso ho un altro paio d'ore per tornare indietro e sotto il sole si sentono parecchio noi ci vediamo più tardi con altre attività qui da Magnetic Island e ci vediamo allora ragazzi è arrivato il momento di svelarvi dove ero prima di iniziare questo video ero nel posto in cui mi trovo ora, a Hawking Point dove c'è un fantastico look out da cui si può vedere il tramonto del sole sull'oceano e sono qui appunto per farvi un timelapse appunto con il tramonto che è sempre bello da vedere visto che comunque gli ultimi miei timelapse sono praticamente tutti tramonti quindi mi sembrava giusto portarvi anche un tramonto da Magnetic Island c'è un pochino di vento, non so, spero che mi riusciate comunque a sentire in ogni caso io vi lascio al timelapse e ci vediamo con quello che farò domani che non so esattamente cosa sarà, quindi ci vediamo più tardi alla fine secondo giorno qui a Magnetic Island sono venuta con il bus questa volta a 2 dollari 80 fino alla Horse Shoe Bay che è il punto diciamo un pochino più turistico anche se comunque se non è che ci sia molto da fare e da vedere sono appunto alla spiaggia non si può fare il bagno ma vi faccio vedere adesso che qua giù in fondo se si riesce a vedere c'è una parte recintata con una rete appunto a protezione per evitare di avere le meduse all'interno di quella zona lì in cui è possibile fare il bagno senza la muta appunto protettiva come vi dicevo è la zona un pochino più turistica c'è la possibilità di noleggiare le moto d'acqua, i kayak, le stand up paddle che sarebbero le tavole da surf con la possibilità di stare in piedi e remare di girare così c'è la possibilità di fare snorkeling c'è anche la possibilità di fare scuba diving quindi immersioni potete fare un po' tutto quello che riguarda l'acqua in tranquillità appunto vi danno tutta l'attrezzatura, noleggiate eccetera e quindi io spero che il video vi sia piaciuto qui da magnetic island ci vediamo al prossimo video vi ricordo che se vi è piaciuto il video potete lasciare un bel like potete anche condividerlo con i vostri amici se avete qualche curiosità qualche domanda potete lasciarla in un commento qui sotto sarò ben felice di rispondervi e vi ricordo anche che in descrizione trovate i link a tutti i miei social in modo tale da non perdervi nessun aggiornamento nessuno dei miei video e sapere anche in diretta che cosa sto facendo noi ci vediamo al prossimo video have a nice life grazie